Dopo il successo degli scorsi anni, anche quest'anno grande partecipazione dei fedeli per l'arrivo a Vallo della Lucania delle effigie della Madonna di Fatima. L'evento è stato organizzato dall'ufficio pastorale in collaborazione con l'associazione dell'apostolato e eucaristico Mariano. La statua è stata accolta presso l'ospedale San Luca in occasione della giornata mondiale del malato, da Monsignor Ciro Miniero, Don Claudio Zanini, Don Silvestro Zammarrelli e da tutto il personale del presidio ospedaliero vallese. L'effigie è stata portata fra i vari reparti ed in seguito è stata trasportata alla clinica Cobellis dove resterà fino a giovedì.